Per il secondo approfondimento in studio di oggi, insieme ai nostri Massimo Arduini e Andrea Nicoli, è con noi il giornalista di Quattro Ruote, Emilio Deleidi. Poche sere or sono, ero su Facebook, il noto social network, e ho visto un appello da parte di Quattro Ruote, ovvero basta aumenti. Detto fatto, ho chiamato in redazione e abbiamo qui ospite Emilio Deleidi di Quattro Ruote e anche Andrea Nicoli come opinionista. Emilio, d'accordo di base sul fatto del basta aumenti per gli automobilisti, per questa minoranza silenziosa, ma che cosa vi proponete di fare con questo appello? Dove volete arrivare? Di far sentire la voce di chi ha subito negli ultimi 10-12 mesi tutta una serie di quelle che possiamo chiamare tranquillamente vessazioni senza mai alzare un dito. Se ricordiamo gli ultimi mesi del governo Berlusconi e tutto il periodo di quello attuale c'è stato un attacco senza precedenti al mondo dell'automobile dal punto di vista fiscale, che ha veramente ridotto le possibilità pratiche di utilizzare l'auto. Andrea, secondo te, questi 35 milioni che siamo tutti noi di automobilisti, come mai non riescono a far sentire una propria voce? Sì, è una cosa curiosa, sembra quasi che tutti noi, mi metto dentro anch'io, non ci sentiamo degli automobilisti, nel senso che ogni mattina ci svegliamo, c'è qualcosa che ci prosciuga, un po' di soldi nel nostro portafoglio, quasi senza rendercene conto. E dicevo, è strano perché appunto altre associazioni a partire dai motociclisti, i nostri colleghi a due ruote, riescono ad alzare la voce. Indubbiamente avremo bisogno anche un pochino più di tutela da parte dell'Automobile Club. I cugini della Germania, quell'Oroada, che hanno una forza molto più pesante nei confronti. Perciò io direi che il primo passo sarebbe un aiuto da parte appunto del nostro inte statale. Emilio, quattro ruote è da sempre il giornale per antonomasia dell'auto degli italiani, è veramente conosciuto, fate dei numeri impressionanti. Perché non provate a essere un po' più incisivi, lavorando magari con l'ACI, con le istituzioni, per formare veramente una sorta di nostra lobby? Perché questo è il nome. Guarda, noi ci stiamo lavorando su questo, però il nostro ruolo è quello di media. Poi ci sono, come diceva Andrea, ci sono altri enti o istituzioni che possono muoversi nelle sedi appropriate. Per esempio, credo che non abbiano fatto moltissimo le associazioni dei costruttori italiane e stranieri, l'ANFIA e NUNRAE, per difendere un settore che comunque costituisce malcontato l'11% del prodotto lordo e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Ora qui noi stiamo rischiando di mettere in crisi quella che fine a non molto tempo fa è stata la gallina delle uova d'oro. Perché se viene meno il gettito fiscale dell'auto, vengono meno i gettiti delle multe, per esempio sulle quali gli enti locali, i comuni, costituiscono gran parte delle proprie risorse. Se la gente smette di usare l'automobile, il paese si ferma. Ma secondo te è giusto che chi se lo può permettere debba andare in giro con la propria Ferrari, Bentley o quant'altro, o con dietro la dichiarazione dei redditi? Non siamo tornati un po' al medioevo in tal senso? Ma no, assolutamente, anche su questo abbiamo preso una posizione molto chiara. Devo dire non condivisa da tutti i lettori perché spesso queste cose demagogicamente fanno molto prese. Il governo ha contato su questo. Però si è ammazzata un'altra fonte di reddito perché io voglio ricordare che il cittadino onesto che compra una Ferrari versa un 21% di IVA su un importo di 240.000 euro, più o meno, o anche di più, che è una cifra che finisce nelle casse dello Stato. Se non la compra più perché viene vessato, ma questo vale anche per le grandi SUV e per tante altre macchine, è tutto gettito fiscale in meno. Andrea, ma secondo te questo governo tecnico, Monti, definito di geni, ma non arriva a capire che forse vale più la logica del vendiamo di più e abbiamo più consumo, più tasse, piuttosto che il ammazziamo quel mercato, vendiamo di meno e abbiamo meno soldi? Ma sai, come dicevamo anche prima, microfoni spenti, io spero e mi auguro che ci siano state due fasi, ci siano due fasi di questo governo. Una prima parte che serviva a tappare dei buchi che rischiavano di far affondare il vascello, perciò subito delle operazioni necessarie dove non si potrà perdere neanche una settimana di tempo. Adesso che abbiamo sistemato, speriamo, qualche cosa, e c'è stato anche tempo per verificare le conseguenze di queste prime idee, adesso è qui che veramente il governo deve dimostrare il suo aspetto tecnico, definiamolo così, per andare a ribilanciare le varie operazioni, perché da adesso in avanti siamo noi, siamo le famiglie, sono le piccole e miglia aziende in Italia che stanno veramente soffrendo tanto. Quindi purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, mi auguro di averte ancora ospite per riuscire a fare degli ulteriori approfondimenti e magari dare anche delle novità positive, ci auguriamo che abbiate ragione entrambi. Invito tutti i nostri telespettatori ad unirsi a questa lotta che riguarda tutti, perché io credo che tutti quelli che in questo momento stanno guardando la trasmissione abbiano perlomeno una vettura, se non due o tre. Quindi siamo tutti comunque coinvolti, finché rimaniamo una maggioranza silenziosa nulla cambierà, ve lo garantisco. Perlomeno diamo minimi contributi, tipo andiamo sulla pagina Facebook di Quattro Ruote, clicchiamo un mi piace per chi ha Facebook, o comunque cerchiamo di essere un po' più attenti a tutte queste considerazioni che vengono fatte e cerchiamo di singolarmente fare un qualche cosa. Grazie a tutti.